Prima dell'inaugurazione della 87esima edizione della Fiera del Levante, tappa obbligatoria a Bari al Sacrario Militare per il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Un rinnovato appuntamento per la qualità della campionaria barese, ma soprattutto la possibilità di sottolineare come il Sud possa essere promotore di un'importante crescita economica all'interno del nostro Paese. Ci leviamo l'87esima Fiera del Levante ringraziando chi è caduto per la guerra, per la libertà, ricordando quanto la guerra sia brutta e quanto invece i sentimenti di pace dovrebbero albergare in ciascuno di noi, con l'auspicio che le diplomazie possano finalmente far finire la guerra, riportare pace in due popolai che ci sono praticamente nel cuore dell'Europa e alle porte del Mediterraneo, nella speranza che il buonsenso prevalga e che i diritti vengono salvaguardati. Quest'anno leggiamo con entusiasmo il fatto che a trascinare la crescita del PIL nazionale sia finalmente il Meridione, con l'1% di crescita cresciamo al di sopra della media nazionale sintomatico del fatto che questo governo sta ben operando per il Meridione e il Meridione risponde da par suo dando appunto una spinta a tutta l'Italia. Grazie